Questa è la scuola di alta formazione dei siti contaminati che portiamo qui a Ravenna ormai da sei anni con l'organizzazione scientifica della Rete Reconnette, ovviamente inserita nella manifestazione generale di cui siamo incredibilmente soddisfatti. La scuola di formazione ha un grande successo, addirittura abbiamo persone che ritorno per più anni e una posizione assolutamente verogenia dei discenti, professionisti, funzionali, tecnici, progettisti, tutto il panorama che prevede la bonifica dei siti contaminati. Abbiamo sempre una grandissima disponibilità da parte dei docenti, anche docenti di alto rango dal punto di vista accademico, dal punto di vista professionale, dal punto di vista dirigenziale e quindi anche istituzionale, che supporta questa idea, che supporta questa modalità e che supporta questo principio.